Mr. Daitola, questa amichevole di oggi con il Fossano, che indicazioni le ha lasciato? Abbiamo fatto bene, dopo dieci giorni di lavoro, una buona gara, una gara di solidità, come avevo chiesto, perché comunque abbiamo affrontato una squadra che ha una caratura per il campionato importante. Mi interessava vedere questo tipo di atteggiamento, di sacrificio collettivo nella fase di non possesso, l'abbiamo fatto bene, quindi direi che siamo sulla strada giusta. Su cosa lavorerà di più nei prossimi giorni in vista dell'inizio del campionato? Dobbiamo mantenere questa linea di comportamento, cercando ovviamente di alzare il livello fisico della preparazione, perché ovviamente certe giocate non ti riescono perché i ragazzi sono appesantiti, sono stanchi, anche il grande caldo ha fatto la sua parte, quindi dobbiamo continuare a lavorare così per cercare di trovare quegli automatismi con un pelo di fluidità di più. Mr. è arrivato anche Gasbarroni, un colpo molto molto interessante, che soluzioni hai in mente? Quale spazio potrà ritagliarsi un giocatore del calibro e dell'esperienza di Gasbarroni? Dobbiamo ritagliarsi lo spazio che accompagna la carriera che ha fatto questo ragazzo, il nome che ha e quindi alzare il livello tecnico, il livello di esperienza e di qualità per tutta la squadra. Adesso lui ha un piccolo problema, quindi inizierà ad allenarsi dopo Ferragosto, lo aspettiamo e speriamo che ci dia un contributo importante.